Una sanità allo stremo è questa denuncia del vicepresidente della commissione sanità e consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luigi Manca, lanciata attraverso i social. Mi sono vergognato, non come consigliere regionale, anche se di opposizione, ma come medico. Trovarmi dall'altra parte della barricata nei panni di un parente che accompagna un suo congiunto al pronto soccorso del Vito Fazzi è stato imbarazzante. Il divario tra i roboanti annunci del nostro presidente assessore alla sanità e la realtà delle condizioni nelle quali i nostri medici, infermieri e operatori sanitari sono costretti a lavorare è abnorme. Questo scrive Luigi Manca e continua. Mentre aspettavo il mio turno, accudendo personalmente il mio parente, ho visto colleghi provati da turni di lavoro massacranti, diversi operatori del 118 in fila all'ingresso in attesa che i medici del pronto soccorso, già operati all'inverosimile di lavoro, prestassero assistenza. Alcuni pazienti su delle lettighe sono rimasti così per ore in una stanza a quattro barelle di pazienti, in barba a tutti i distanziometri, misure di sicurezza, eccetera. Insomma, ho visto una sanità allo stremo con operatori i quali non è stato neppure fatto un tampone per la loro sicurezza, ma anche per la sicurezza di coloro che arrivano al pronto soccorso con problematiche diverse e potrebbero ritrovarsi contagiati dal Covid. Il tutto mentre il Dipartimento per l'Emergenza, il DEA, è avvolto da un eterno mistero sul suo funzionamento. Mi chiedo, ma il Presidente Assessore alla Sanità, Emiliano, è a conoscenza di ciò che si sta verificando all'ospedale di Lecce o è troppo impegnato per andare in TV? Conclude il consigliere.